ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi mi trovo con flaviano siamo giunti in questo posto scoperto grazie a google earth un posto che tende a precisare è già aperto da qua e da là quindi non abbiamo forzato nulla allora si tratta di un complesso di abitazioni in particolare lì abbiamo una casa a due piani e anche dall'altra parte ce ne abbiamo un'altra mentre qui c'è un'altra casetta molto particolare quindi adesso senza perderci in troppe ghiacchere partiamo subito un'altra casetta eh però sto via è particolare come cosa sicuramente era una stalla si sicuramente qua c'avevano cavalli o comunque bestiame questa l'ho imparata dal bifoto c'è qualcuno siamo militari stiamo facendo un controllo l'asbio è l'uomo nato sciampi tutti protetti per diciamo l'igiene si sicuramente e qua ci dormono guarda quanti panni davvero latte acqua passata da pomodoro sono una linea di natale sono andate in latte come è così questa meraviglia è la stella si e qua il casale abbastanza grande merda merda stiamo andando da dentro le finestre da lì ci sono da le mie spalle dei panni stesi dentro questa struttura qua ci potrebbe essere qualcuno dobbiamo usare il metodo scientificamente e tecnicamente più efficace usato dalle unioni sovietiche in guerra per capire se nei bunker nemici c'era qualcuno è pronto si Antonio Gesù 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 Pasquale ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono certi ci sono ci sono noi ci sono delle No, solo 17.000 bisognette rubate, non perire. 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 No, solo 17.000 bisognette rubate.